Ciao, sono Dario di Alternativa Linux. Assegnare bottoni mouse in Linux a tasti di tastiera o a lancio di programmi, uno scoglio che un utente in fuga da Windows può incontrare. Con mouse dotati di molti bottoni in Windows hai vita facile perché il produttore hardware fornisce un programma per rimappare ognuno di essi. Anche se tali produttori non sempre hanno a cuore Linux si può ovviare, ma si deve fare da soli. La descrizione sotto al video non è adatta a riportare tutti gli esempi per il copia e incolla. Segnalo quindi l'indirizzo del tutorial pubblicato nel blog, che secondo me in questo caso, dopo una compressione del meccanismo, è più adatto allo scopo. Circa il tema di oggi puoi assegnare a singoli bottoni azioni come la pressione del tasto cance sulla tastiera o le funzioni di taglia, copia e incolla, che forse lo sai, si ottengono rispettivamente con le combinazioni di tasti CTRL-X, CTRL-C e CTRL-V. Puoi far sì che il sistema interpreti la pressione di un bottone del mouse come la combinazione di tasti CTRL-ALT-CANCH per aprire la finestra di gestione delle sessioni o CTRL-ALT-FINE o END per aprire il menu di spegnimento o riavvio del PC. Ma puoi anche assegnare ad un bottone l'apertura di un programma installato o la scrittura di formule di vario genere e intere frasi. Servono un po' di terminale, una manciata di comandi e la preparazione di un file. Compreso il meccanismo però diventa rapido e tutt'altro che impossibile anche per un principiante. E gli esempi ed i riferimenti che fornisco ti aiuteranno anche per adattarli alle tue esigenze. Ho testato la mia soluzione con Linux Mint 20.3 ma funzionerà anche in altre distribuzioni. Dubito però che possa funzionare con quelle che adottano il nuovo gestore di finestre Wayland come le ultime versioni di Ubuntu. Ho fatto le mie prove con i mouse Logitech M500 e i gloriosi e indistruttibili MX518 e Marathon M705. Ma per quelli con più bottoni il discorso non dovrebbe cambiare. La prima cosa da comprendere è come sono identificati dal sistema i singoli bottoni del tuo mouse. Poi potrai assegnare loro una combinazione di tasti, la pressione di un singolo tasto di tastiera, l'apertura di un programma o la digitazione di un testo. Se sei fortunato potresti risparmiarti questa parte del lavoro. Nei miei mouse Logitech, forse anche in altri, che prevedono due bottoni per l'uso con il pollice, la rotellina cliccabile come pulsante centrale, oltre che inclinabile a sinistra e a destra, ecco i numeri identificativi dei singoli bottoni. Se hai più tasti o se più avanti scopri che la tua situazione è differente, lancia il comando CSEV che intercetta gli eventi di mouse e tastiera. Eseguilo in una finestra di terminale in questa forma, per isolare solo la pressione dei bottoni del mouse e non anche il movimento del puntatore. Si apre una finestrina quadrata. Sposta la freccia del mouse su di essa e premi un bottone. Vengono sempre intercettati due eventi, la pressione e il rilascio del bottone. Li trovi nel terminale, nell'ultima delle tre righe di dettagli per ogni evento. Il più importante è il dettaglio dopo la prima virgola, perché identifica il bottone premuto. Adesso puoi creare una mappa come la mia, salvarla in un file di testo e non dovrai più rifarlo per quel mouse. Preparata la mappa dei bottoni del tuo mouse, installa questi due pacchetti. Puoi cercarli e installarli con un clic da gestore applicazioni, il centro software di Linux Mint, o con il gestore pacchetti Synaptic, ma ovviamente basta un comando apt da terminale. Insieme consentono di raggiungere il nostro obiettivo. Catturare la pressione di un bottone, assegnargli uno o più tasti della tastiera e passare al sistema queste informazioni invece che la semplice pressione del bottone. Va creato un file di configurazione, da salvare tra i file normalmente nascosti nella tua cartella Home sotto Home, tuo nome. Abilita nel File Manager la visualizzazione dei file nascosti dal menu Visualizza o con CTRL-H. Premi il clic del pulsante destro su uno spazio libero e seleziona Nuovo documento. Chiamalo .xbindksrc con il punto iniziale e senza estensione e salvalo. Supponi di voler assegnare alla pressione del bottone 6 la pressione del tasto Canch nella tastiera. Dovrai aggiungere queste due righe al file. Per riassegnare ai bottoni 8 e 9, che normalmente servono per andare avanti e indietro nella navigazione le funzioni di copia e incolla, aggiungi al file queste informazioni. La prima riga indica quale tasto o combinazione passare. Presta attenzione solo a ciò che è scritto e scriverai tra la seconda e terza serie di virgolette semplici. Negli esempi citati la C maiuscola dopo il backslash indica il CTRL premuto, la minuscola successiva la lettera premuta sulla tastiera in combinazione con il CTRL. Puoi ad esempio mappare un bottone con backslash C maiuscolo X per fare CTRL X ovvero taglia. La seconda riga imposta la pressione del bottone cui il comando deve essere assegnato. Il bottone va indicato con B due punti numero. Via via che aggiungi comandi è bene poterli identificare rapidamente nel file per successive modifiche. Percedi ogni assegnazione con una riga che inizia con cancelletto e servirà come nota senza venire interpretata come comando. Il file di configurazione con i comandi già visti assume questa forma. Visti i primi esempi spiccioli ecco un elenco delle corrispondenze più comuni che ti serviranno per creare le tue azioni. Il manuale di xvkbd lo consulti da terminale digitando man xvkbd riporta le seguenti opzioni. Ti consiglierei di prendere nota di questo specchietto anche nello stesso file con la tua numerazione dei bottoni. L'ultima corrispondenza tra parentesi graffe può simulare la pressione di un tasto da indicarsi come numero corrispondente al dettaglio kcode intercettato da xev. Ad esempio sarà probabilmente anche per te 66 per il blocco maiuscole e 77 per il blocco del tastierino numerico. Alcuni di questi codici li abbiamo già visti. C'è di che sbizzarrirsi. Ogni lettera con il backslash iniziale presente nell'elenco viene passata come pressione del tasto corrispondente. Quelle non precedute da backslash sono passate come semplici lettere digitate sulla tastiera. Ecco perché backslash cc, cv e cx corrispondono a ctrl c, ctrl v e ctrl x. Vediamo alcuni esempi utili di configurazione che possono servirti anche solo per comprendere meglio il meccanismo e preparare le tue azioni. Puoi lanciare ctrl alt canc e aprire il menu di termine sessione o cambio utente con il clic del bottone 8 così. Oppure il menu di blocco spegnimento e riavvio con il bottone 9 così. La chiusura della finestra corrente, che come in Windows si ottiene con alt f4, puoi assegnarla al bottone 6 in questo modo. Con i bottoni avanti e indietro puoi catturare l'intero schermo o solo la finestra corrente, come con il pulsante stamp o print screen oppure con alt stamp. Il comando per il file potrà essere così scritto. Preferisci assegnare i bottoni 8 e 9 a pagina su e pagina giù? Ecco cosa scrivere. Vuoi assegnarli rispettivamente ad ogni pressione del tasto blocco maiuscole o blocco numeri? Salverai questo. Se i codici numerici tra parentesi graffe non funzionano per la tua tastiera, lancia nel terminale Xev in questa forma e identifica il numero di Kcode del tasto premuto per sostituirlo tra le parentesi graffe. Un ulteriore consiglio che mi sento di darti è quello di consultare nel blog l'elenco di scorciatoie di tastiera per Linux Mint 20 o scaricare l'infografica che trovi a fondo pagina. Oltre ad imparare trucchi che magari non conosci, puoi replicare molte di esse con i tuoi bottoni del mouse. Puoi usare bottoni del mouse anche per lanciare specifici programmi installati. Le righe sono anche più semplici in questo caso. Racchiudi tra virgolette il nome del pacchetto nella prima riga. Non serve altro perché sia passata al terminale come comando di lancio. Il file di configurazione passa al sistema una combinazione di tasti speciali e di lettere o numeri. Questo può consentirti di assegnargli anche la scrittura di frasi o formule di uso ripetuto. Ecco esempi che potresti assegnare ai tasti 8 e 9. Nell'ultimo esempio la mia formula di chiusura viene scritta su due righe grazie a backslash r minuscolo che come visto prima equivale a passare il tasto invio. Infatti ecco il risultato. Con queste possibilità di assegnare macro di testo ai bottoni del mouse troverai occasioni in cui potrebbero consentirti di risparmiare tempo. Diversi copia e incolla ripetitivi possono diventare solo incolla se hai già assegnato il testo ad un bottone. Abbiamo finito con le configurazioni e salvato il file .kbindsrc in home tuo nome. Ho lasciato il piacere per ultimo, dopo le fatiche. Vediamo all'opera il risultato dei nostri sforzi e lanciamo nel terminale semplicemente xbind keys. I bottoni fanno ciò che ti aspetti? Se così non fosse e comunque dopo modifiche alla configurazione questa deve essere ricaricata. Meglio chiudere xbind keys e riavviarlo. Digita prima kill all xbind keys poi lancialo di nuovo. Quando tutto funziona come previsto non dovrai lanciare xbind keys ad ogni avvio del pc perché l'installazione del pacchetto aggiunge anche un comando per farlo automaticamente. Se però la tua mappatura di bottoni del mouse non funziona al riavvio aggiungi manualmente xbind keys all'elenco applicazioni d'avvio, come si chiama tale opzione in Linux Mint. Apri il menu, digita avvio o cerca sotto preferenze. Clicca il più, su aggiungi comando personalizzato e metti come nome xbind keys. Svelo un segreto alla fine. Per la configurazione di xbind keys è disponibile anche il pacchetto xbind keys trattino config. Anche questo puoi installarlo da gestore applicazioni, da gestore pacchetti o da terminale. Una volta installato non viene creata un'icona nel menu o nel desktop. Devi lanciarlo da terminale semplicemente con il nome. Ne parlo solo ora perché credo che si debba avere chiaro il meccanismo di xbind keys e un file di configurazione già pronto per poterlo usare con profitto. Anzi, secondo me non è davvero intuitivo per un principiante, ma solo se sei esperto e conosci già ogni aspetto del comando e delle sue opzioni. Io non sono tra questi e continuo a preferire e suggerire la soluzione manuale. È vero, non è proprio semplicissimo assegnare i bottoni del mouse in Linux senza un programma grafico come in Windows. Ma per come la vedo io la cosa diventa più semplice in Linux. Fatto lo sforzo iniziale, salvi il file di configurazione e lo ricopi nella tua home dopo la reinstallazione di Linux Mint e dei pacchetti necessari e andrà sempre bene per quel mouse e forse anche per altri. Nel blog chiudo il tutorial con i miei riferimenti sull'argomento nel caso tu abbia bisogno di altre informazioni che vanno oltre gli aspetti che ho potuto conoscere. Sono in inglese, però. Spero di esserti stato utile e ti invito ad iscriverti e a verificare, se vuoi, gli altri video già pubblicati dalla pagina principale del canale. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti!